Iniziato ieri e si concluderà domenica 2 luglio il Festival Asincronie. Vediamo il servizio di Umberto Graziano. Sono iniziate ieri le proiezioni a ingresso libero presso il Cityplex moderno di Sassari per la quarta edizione di Asincronie, festival di cinema, documentario e fotografia. Il festival, ideato e curato dal collettivo di filmmaker e fotografi Quattro Cani per Strada, si svolgerà a Sassari dal 27 giugno al 1 luglio e si concluderà dal ghero domenica 2 luglio. Un'edizione dedicata al tema delle città, al rapporto tra urbano e l'umano, indagato da molteplici punti di vista, linguaggi e latitudini geografiche. Dall'Africa del Burkina Faso, agli Stati Uniti e all'India fino alle periferie italiane. Mercoledì 28 giugno sarà proiettato Il Paese delle persone integre di Cristian Carmosino Mereu sulla transizione verso la democrazia e l'autodeterminazione del Burkina Faso. Con la presenza del regista, il giovedì 29 giugno, due film selezionati attraverso una call lanciata dal festival e rivolta a film caratterizzati da un approccio creativo al racconto del reale. Si prosegue il 30 giugno con l'audiodocumentario dal vivo I Ritornanti di e con Jonathan Zenti. Sabato 1 luglio gli audiodocumentari Passer dell'artista transdisciplinare Valeria Muledda. Domenica 2 luglio il festival si sposta ad Alghero, negli atelier di Piazza Francesco Soggiu, per una lettura a portfolio gratuita con Alberto Pinna.